E non possono bloccarci lo sviluppo per il loro egoismo politico, perché la politica della sinistra, con una mano ti dà e con l'altra ti toglie, questa è la loro politica. Così come hanno distrutto questa regione, che se ne dica. Ne hanno fatte di cotte e di crude, ma non hanno manco il coraggio di dire la verità, perché loro sono abituati a dire le bugie. Beh, ripartiamo da qui, ripartiamo come nel 2019 su questa piazza, abbiamo fatto la storia e da oggi ripartiamo per fare la storia del Molise. Con tutti voi, con tutti i nostri candidati, andiamo a vincere questa elezione, perché ormai loro si nascondono dentro le piazzette, perché non hanno più il coraggio di dire e di fare, perché ormai li conosciamo, sono soltanto politicanti di quattro soldi, senza idee, ma soprattutto senza coraggio di guardarsi in faccia, di stare in mezzo alle piazze e di incontrare la gente. Andiamo a vincere questa elezione per tutti i Molise, per noi molisani e per i nostri figli.